allora ben ritrovati xbox zone il mob vi saluta il sistema pone la poltrona nel trono di spade nella poltrona del mob ben ritrovati allora ci vediamo ci incontriamo tutti i giorni adesso perché sono giorni caldi molto più caldi di quelli che già dobbiamo sorbirci perché microsoft ci sta facendo sudare vedete che ho registrato già tre o quattro video non mi ricordo perso il conto un escalation spietata dove prima si iniziava con l'arrivo il lancio dei band o the fire stick amazon con le cose con le consociao partito no con un controller lo spot che esclude la console i rumor che dicono ancora non confermati che microsoft se ma voglia allentare molto nella distribuzione in europa delle delle series adesso diciamo che arriva un altro un l'altra mazzate che sarebbero i bilanci che si fanno sempre un po a metà anno siamo a metà del 2024 e sembrerebbe che le vendite per questi primi sei mesi cioè la prima metà dell'anno non siano andate bene nessun pc e né su console però la mazzata più grossa pare che l'abbia presa udite udite inspiegabilmente colpo di scena scena di colpo sembra che l'abbia beccata proprio xbox in europa con un grosso calo comunque rilevante anche per nintendo con switch ora attenzione adesso voi imbatterete nelle pennette magiche super pennette starlight che rigireranno ovviamente la notizia dicendo che xbox le vendite di xbox si riesce in europa sono a picco però non è non è realmente così questa è la classica manipolazione da pennetta in realtà è che hanno fatto un po tutto e un po schifo ripeto nintendo switch quasi è quasi messa male come xbox playstation 5 quella che ha accusato meno visto che è una percentuale molto più bassa però dipende come la giri comunque hanno venduto meno delle aspettative un po tutte ps5 tiene anche in europa perché se detto vende ogni oltre ogni ragionevole motivazione vedo che ci sono i guerrieri proprio sony anche nel canale vengono a fare commenti anche direi poco educati ma io sono signore vi rispondo sapete che io non è che sono anti sony pro xbox va bene con canale xbox ma sono un giocatore quindi non mi faccio problema a dire le cose se faccio delle critiche a sony sono esattamente che cosa intendo non è perché ho l'odio per sony che mi frega sono esattamente che playstation 5 sta avvenendo senza reali motivazioni se non quelli un po irrazionali che sono legati a tantissimi fattori la moda la tendenza il la fidelizzazione lo storico tra tanti motivi ma non mi davvero non venite a tirarmi fuori rise of the running stellar blade cioè del lato b più bello nel 2024 criticato su stella beta ha detto una cosa bellissima al produce più io vorrei vorrei qui il flash ha detto perché sapete che stella blade è stato criticato perché la protagonista è troppo faiga sapete come siamo in periodi di walk social justice vuorio quindi non si può essere troppo belli in un videogioco non si può essere troppo bianchi ci sono tutto un po di paletti vari no politicali core queste vacate qui che hanno mandato per funghi hanno mandato fuori a cerca funghi i videogiochi visto che si è visto anche le ripercussioni vabbè e vorrei veramente qui il flash perché appunto è stato criticato stella blade perché ovviamente ci ha marciato perché tira più un pelo di faiga che un caro di buoi si sa e ovviamente comunque il gioco merita ma sapete com'è una spintarella non fa mai male a nessuno specie di questi tempi un po pazzi in cui certezze non ce l'hai e aver fatto un bel gioco non è sufficiente vedete poi marketing quanto è importante importantissimo lo capisse microsoft con queste series comunque vabbè hanno hanno avuto un lampo di genio incredibile che non ci aveva pensato nessuno in realtà che oggi stasera sono tipo le scatole cinesi rincoglioniti come sono oggi effettivamente un lampo di videogioco visto che non lo fa più nessuno visto che mettano i lavandini i bidet ambul dei bidet ambulanti ne vanno tutti orgogliosi almeno non so i non belli o chi non si sente bello si sente meglio rappresentato in un videogioco quando io sono di ben diverso avviso io lo provivo in una maniera completamente diversa il videogioco ma sono i social che ci hanno rovinato ragazzi social ci hanno rovinato rovinata dei livelli stratosferici perché prima non videogioco tu volevi essere altri non volevi essere te stesso e non ti risentivi se il protagonista era bello vincente più figo di te più abile di te facevi un transfert dentro quel protagonista e vivevi quel protagonista non eri più te eri lui eri te dentro di lui come mai nintendo e glielo sempre un po criticata sta cosa però effettivamente in l'essenza non avevano torto non volevano mai caratterizzare troppo un protagonista e loro icone loro fetici link samus saran di metroid mario marione baffone non li voleva cari caratterizzare più di tanto perché voleva che rimanessero un po misteriosi per fare in modo che sia il giocatore l'utente a riempirli quindi sono involucri involucri per l'esperienza ma ragazzi ma nintendo è la più antipatica di tutte è proprio c'è la top ten degli antipatici lei in cima ma a fare videogiochi non glielo insegna nessuno e quindi grandi samurai del gaming quando alzano la voce abbassano i cappellini ma è giusto è giusto però anche col senno di poi mi rendo quando è passata anche l'ondata dei videogiochi esperienza single player super campagna della vita dieci ore di esperienza ultra cinematografica con sceneggiatura adulte colpi di scena roba roba da farci cento film ce l'avevo anch'io un po quel periodo lì che colminò con last of us visto vedete voi parlo anche di roba sony last of us mi è piaciuto molto il primo però è solo il primo e però una volta che mi è passata un po quella fissa per l'esperienza ultra cinematografica con incredibili sceneggiature tornando un po e acquistando un po il senno mi sono reso conto che nintendo aveva ragione cioè quel tipo di esperienza lì è la vera esperienza giocosa non va bene se diventa limitante quando vuoi utilizzare il media per avvicinarti a un tipo di messaggio cinematografico per questo io apprezzo molto david cage nella mente dietro produzioni come vi re in beyond detroit fare night insomma erano tutti giochi che fanno pesantemente leva sull'aspetto narrativo film interattivi più che giochi quindi esperienze cinematografiche siccome mi affascina tutto in buona sostanza e sono un super fan del cinema lo sapete avete scoperto anche nelle live si l'esperienza cinematografica nel gioco mi piace però ottimamente sono un po cambiato dico la verità perché per esempio con el blade 2 che è un po un esponente di questo caso mi sono venuti degli zebedei come mongolfiere che stavo cominciando a lievitare e forse sto tornando un po a livello un po basici un po non lo so elementari non lo so di definire bene neanche io però con questa sorta di mezzo passo indietro mi rendo conto del del processo che faceva il procedimento che faceva nintendo togliendo la narrazione la caratterizzazione del personaggio e lasciando che fosse il giocatore a riempirlo l'assenza o comunque una presenza molto relativa di cutscene di robe così perché si entrava subito nel gioco subito nell'azione non sono mai state esperienze cinematografiche quella di nintendo sia un po adeguata un breath of the wild sia un po adeguata facendo qualcosa di un pochetto sia guardata intorno nel mondo degli open world sia guardata intorno e non è male è un segno di grande di grande onore quello di guardarsi intorno perché non puoi avere la presunzione di pensare ad essere il meglio dell'universo e non aver bisogno di ispirarti a niente quindi è stato un gesto umile che ho apprezzato per esempio le torri di breath of the wild sono un omaggio a ubisoft e franchise di ubisoft come assassin's creed quindi apprezzo ho capito che cosa intendeva nintendo con con questo tipo di partecipazione il personaggio veniva riempito dal giocatore vedete quindi queste senza qui ora chiudo la scatola cinese va in contrasto con i deliri le psicosi lo psicodrama del walk del social justice warrior e di tutte ste vacate politiche maledette di gente che in buona sostanza ti vuol giudicare perché hai idee diverse da loro ed è questo il casino questi sono tempi in cui si esprime una tua opinione viene accusato di qualcosa non c'è speranza non c'è scampo c'è una soluzione c'è e fare gli gnavi mettessi in un angolo e non da noi a nessuno ma è questa qui la vita che volete fare ma seriamente perché questa è l'unica e non è detto che vi vada bene nemmeno così perché forse qualcuno vi potrebbe accusare di non rompere abbastanza le bolas non c'è speranza ragazzi quindi preparatevi e starà sempre peggio perché ripeto i social ci hanno rovinati ci hanno rovinati i social perché prima succedevano le cose cioè succedevano le cose che succedono adesso non c'era niente di diverso succedevano le stesse cose solo c'erano gli ambienti i meno ambienti i super ambienti che facevano cose stellari da super ambienti coi social i super ambienti ti schiaffano sul muso tutte le loro attività e molto poco ambienti rosicano rosicano genera genera l'hating l'odio scoprendo magari che il super ambiente ce l'avevi vicino di casa e non lo sapete perché la privacy va va completamente della saluto sistemi piramidali del ciuffolo cerco di non dire parolacce cerco di non di parolacce con questi termini buffi non so quanto reggo ma ci provo il ciuffolo così youtube non si arrabbia niente più privacy psicosi collettiva perché ragazzi l'essere umano sostanzialmente è un po brutto ecco sì se lo metti se lo esponi a certi tipi di energie negative non ti reagisci bene e sapere troppo vedere troppo nemmeno quello fa bene le informazioni vanno vanno gestite con intelligenza vanno filtrate con intelligenza un social che spara migliaia di informazioni nel muso di una persona non pronta sono guai e molti non sono pronti quindi appunto sale l'hating l'odio il vantaggio di essere una posizione comunque di vantaggio per via dell'anonimato poter tirar fuori il demone che purtroppo risiedeva dentro di te perché non voglio dire che il demone sono i social e ti sei attaccato addosso ma purtroppo dico che il demone era dentro di te e il social lo fa usci fuori c'erano mille sistemi scogitati da gente più intelligente di noi per tenere i nostri demoni a bada e purtroppo però i social hanno hanno distrutto tutte queste barriere il demone temibile esce fuori e si manifesta in queste maniere qui con l'hating con l'odio un odio spaventosamente puro tra l'altro nemmeno giocoso e ora non voglio andare troppo sul pesante ma insomma purtroppo le persone che non hanno una sufficiente autostima e sono comunque deboli agli attacchi possono rimanere molto e gravemente danneggiate dall'influenza di queste persone quindi adesso ora parlo dell'hating in generale ma non voglio scendere anche in particolari truculenti perché non è il caso però purtroppo è così non siamo tutti uguali ci sono persone più debole di noi che vanno tutelate non torturate e quindi social ci hanno distrutto ci hanno disintegrato il cervello e quindi adesso la nostra ossessione è quella di essere rappresentati nel media perché tu sei rappresentato nel so pensateci perché è un'intuizione quasi geniale del modo tu devi essere rappresentato nel media perché scusate non nel media nel quello conseguentemente devi essere rappresentato nel nei social perché appunto ti devi esporre anche te il più possibile per rispondere ai superambienti no quindi anche te devi cercare o almeno dare l'illusione di avere anche tu una vita sociale un qualcosa da contrapporre e quindi quel meccanismo lì alla fine siccome il cervello completamente spappolato oltre il fegato come diceva scolossi anche nel gioco può essere così può essere rappresentato anche nel gioco e quindi vai a distruggere in realtà l'essenza del gioco che è quella di un'astrazione cioè tu ti astrai e per il momento dell'esperienza ti immergi in un'altra realtà in un altro personaggio perché ragazzi se si dovesse essere coerenti fino fino in fondo su questa linea allora non vorresti nemmeno essere in un fantasy non vorresti essere nemmeno in un film un gioco di fantascienza o un morpg ma manco un racing perché diresti ma io sono un incapace sono grato di guidare una macchina che mi metti alla guida di una macchina di formula 1 mettimi alla guida di una panda in un viale alberato perché quello ce la posso fare a farlo ecco fammi così poi brutto perché sono brutto quindi brutto su una panda in un viale alberato senza curve meno c'è rischio ecco questa è un'esperienza di gioco interessante cioè vi rendete conto dove si va a finire ma malissimo malissimo e allora se ti astrai a livello di ambientazione se ti astrai a livello di situazioni anche avventurose tutto intellettuali mentali perché non ti puoi astrarre anche in nei connotati cioè perché tu non puoi metterti nei panni di una faiga clamorosa con un lato b da olimpiadi che non iniziano olimpiadi ci sono anche le olimpiadi e il lato b da olimpiadi perché no è una follia no è una psicofollia e infatti mi mi riaggancio all'apertura il produttore di stellar blade ha detto sinceramente a me piace interpretare personaggi un po più carini di me in un videogioco e questa è nella sua semplicità è ha detto tutto ha detto tutto certo non sarà sufficiente per placare per placare gli animi ma ma questo candore è meraviglioso cioè io io voglio in un videogioco voglio personare una bella donna cioè sicuramente deprecabile va tutte le bande politiche e movimenti vari però ragazzi viva la sincerità no e il fatto è che siccome siamo rincoglioniti col cervello papa schiavizzati dai social e dai movimenti vari siamo anche ipocriti abbiamo anche questo siamo anche maledettamente ipocriti perché in realtà questo è il desiderio di molte persone e però non si può più a mente perché non sta più bene non sta più bene praticamente niente nel dire che un rambo a petto e nude con un con un mitra più grosso un camion che che spara distrugge tutto ti dà quel senso un po di catarsi di sfogo ti fa sentire un filino meglio no perché tutta quella violenza che ti fa sentire meglio non va mica bene poi un caucasico muscoloso che cosa c'entra in guerra è un personaggio da fumetto con quella banda in testa non è credibile non sei credibile non è credibile piantatela tutti non so che dire per ora si è salvato solo Rocky quando quando mi faranno fuori anche il mio amato Rocky che tutte le volte io mi devo riguardare periodicamente Rocky 1 perché la scena quando lui si spara cinque uova crude alle quattro di mattina con quella della raviolina e fa fa un freddo proprio un freddo cane e lui si goia tutte queste uova crude che è una roba da rimanerci secchi sul colpo va a correre con quel pezzo meraviglioso ora non mi ricordo però chi ha composto la colonna sonora di Rocky andiamo a vederlo tanto se no abbiamo questo questo fantastico computer a disposizione non lo sfruttiamo no allora non la cronaca nera non mi interessa alla wikipedia qui solo giochi pacate noi non siamo animi semplici ci interessano i morti gli ammazzati gli stuprati questo mondo pazzo parliamo dei giochi che è meglio il film la wikipedia rock o è del 76 girato da john g avidsen non era di silvestre stallone che ha preso in mano il franchise da due stallone stava era praticamente molto poco ambiente e ha fatto di tutto per interpretare il film con un aneddoto strappalacrime sul cane perché lui aveva venduto il cane perché era molto poco ambiente e dopo aver preso i soldi dal film che l'hanno pagato anticipatamente credo non so insomma aveva i soldi per riprendersi il cane che è birillo il famoso cane birillo del film è il suo cane ma questo penso lo sapevate già insomma si è ricomprato il suo amato birillo e l'ha messo nel film tra l'altro l'ha ricomprato a 15 volte il prezzo a cui l'aveva venduto una roba una roba folle o 100 volte non solo aveva venduto a 40 dollari e l'ha ricomprata a 1500 dollari mi sembra e comunque vabbè una storia strappalacrime rocchio il suo cane volevo vedere chi aveva fatto le musiche oh Bill Conti eccolo qui ecco quindi partiva il pezzo di Bill Conti quando lui esce a fare gli allenamenti e io metto a piangere perché quella scena è troppo è troppo poetica quella musica meravigliosa Philadelphia all'alba ma nemmeno perché è notte fonda stanzialmente alle 4 di mattina è lui che prova a fare la mitica scala però è la prima volta quindi non ha fiato torna a casa un po' abbacchiato con col fiatone però è l'inizio del mito e poi comunque è la forza di volontà che vince su tutto per questo Rocky è uno dei più grandi metafore di vita esistenti ok va bene ma torniamo comunque al punto se no mi perdo i media ci hanno rincoglioniti completamente quindi c'è tutto il c'è l'hating c'è il politica licore ci sono chi cura i videogiochi che non sa più che pesci prendere sono terrorizzati da tutto perché hanno pure qualche movimento e si ritorca contro in tutto sto caos il produttore che è asiatico è coreano no perché gli asiatici c'è i giapponesi coreani tanto sotto sto punto di vista su tutta una famiglia non è che faccio come verdone in borotalco c'è cinese giapponese insomma delle parti là non è che faccio tutto un girone però effettivamente gli unici veramente liberi per adesso a meno che non finché non rincoglioniscono completamente anche loro sono loro perché loro continuano a sfruttare grazie a dio grazie femminili per i loro videogiochi e non si fanno problemi a mettere belle donne in un videogioco e però vedete poi dopo si devono succiare le polemiche perché siamo un villaggio globale quindi però almeno loro resistono speriamo continuano a resistere perché l'occidente l'incompensa è partito completamente è andato non lo riprende più l'occidente non sa più che cosa fare la psicofollia è tipo in forza motorsport c'è l'avatar con l'omino in sedia a rotelle o con la gamba di ferro ma io se fossi con la gamba di ferro in sedia a rotelle vorrei essere rappresentato nell'avatar in un videogioco così come sono nella vita non magari con due gambe scattante ma io nella vita andrò a guidare una ferrari a 200 all'ora su su imola non penso quindi già quello è poco realistico se ci vado anche con un avatar che ha tutte e due le gambe non ci vedo tutto sto grande scandalo qui siamo proprio sfociati nel grottesco e quindi avrei voluto veramente il flash qui a sentire il produttore di stellar blade che che dice vabbè ma a me mette faghi in un videogioco mi piace che faccio di male poi ovviamente gli ha fatto è perché gioco è valido ma ma questa è stata una bella pubblicità tanto più che credo tra un po uscirà su pc la solita musica allora io rispondevo a chi mi criticava nei commenti dicendo che continuo sta questa questa canzoncina della ps5 che non ha giochi è la verità perché l'ultima produzione ora non voglio parlare di sono me ne frega niente però quando faccio delle critiche do delle motivazioni mi dò così perché mi sta a sollevare le sony l'ultimo gioco sony è stato spider mi hanno uscito l'anno scorso cioè se mi dovete dire in ballo produzioni giapponesi coreane che sony acquista con le solite blinda con le sue metodologie va bene allora i giochi ce l'ha la playstation 5 in quel caso vi chiedo scusa ma non è quello che intendevo io sto parlando d'esclusive titoli fatti nel senso sono d'accordo mi rispondete che stellar blade è un esclusiva perché effettivamente adesso c'è da adesso c'è solo su ps5 rise of the running parte che comunque parliamo di produzioni giapponesi barra coreane l'occidente ne è nulla e final fantasy certo final fantasy remake e rebirth cioè il secondo episodio di final fantasy 7 è uscito solo su ps5 per ora ma questo perché perché sony compra le ip o segna o fa accordi sporchi di concorrenza sleale con i produttori asiatici che comunque sono tutti per lei perché tanto la console vende di più quindi cioè quella ragazzi non voglio utilizzare termini brutti ma è un po supremazia territoriale per cui già già questo me le fa un po girare che almeno microsoft le compra e compra le soft house e le aziende e almeno dopo le fa microsoft studio alla fine roba sua ma sony compra niente non compra nemmeno un per cento uno per cento di azioni di nessuno ma nessuno hanno sempre avuto quel braccino corto approfittando della loro posizione di come si può dire supremazia nel mercato perché tanto è la via dorata è intoccabile non si può criticare sony non si può far niente se prova anche qualche giudice a dire ma com'è che questi hanno pensato degli accordi un po strani con con lo square ma com'è che non esce mai su xbox fan a fantasy se vanno detto inizialmente che era un esclusiva temporale niente sto giudice forse l'hanno fatto fuori poveraccio l'hanno bavagliato non si è saputo più niente c'è qualcuno voleva far luce su sta storia dopo che microsoft al processo col gran giurì per difendersi dall'accusa di monopolio per volere acquisire activision disse guardate che sony ha preso accordi con square per non far uscire mai final fantasy 7 e 16 su xbox e anche per altri titoli tra cui silent hill 2 e allora è una esclusiva anche quella ma sono tutti giochi che non escono su xbox che è una roba che non si è mai vista cioè così va bello esclusive me le faccio anch'io vado da una casa e gli dico cos'hai io ho il caciucco io che ne so io con le cresce ho fatto le crescentine bene le blindo io su tutte mia non le da nessuno o anche mi pare a me non li dai a gino non le vendi le crescentine all'alti le puoi vendere fanno così e nemmeno vanno a dire no sono tutte mia no a gino non le dai quello col cappello verde a lui non gliele dai perché perché così te non te ne fregare di anni i soldi e non rompermi le boas che si fanno così e nessuno gli dice niente non sono politiche scorrette questi non sono politiche anti concorrenza non sono politiche che giustificherebbero delle indagini visto che quest'alti solo perché son dei big stramiliardari che già fanno i miliardi con i sistemi operativi che abbiamo tutti quelli li devono essere messi testa in giù e piedi in su a qualsiasi cosa fanno centomila domande ma sei sicuro guardate che jim ryan quando fu intervistato e gli dissero questa tremenda sta roba qui gli dissero che cosa avrebbe fatto nei panni di ai tempi del processo sempre a microsoft che cosa avrebbe fatto nei panni di microsoft con la serie di call of duty ce l'avrebbe data anche alla concorrenza come ha fatto microsoft visto che ha fatto firmare un accordo di dieci anni decennale o l'avreste trasformato in un'esclusiva jim ryan si rifiutò di rispondere disse che non aveva knowhow per rispondere a una domanda simile ma che cosa devi avere di knowhow di semplicemente si avrei fatto uguale a microsoft l'avrei reso multiplattaforma quando loro sono quelli lì che che prendevano accordi con activision per avere dlc che uscivano solo su playstation se qui quindi c'era sta tecnica infame anche questa cioè del gioco che si esce su tutte le piattaforme ma determinati contenuti sono solo nostri senza che sia stato come sempre come sempre ufficializzato niente sempre sotto banco e allora ragazzi quello non risponde cosa meno come l'antepeti vuol dire che sono e sicuramente al posto di microsoft avrebbe reso call of duty un'esclusiva o comunque non l'avrebbe fatto uscire su playstation a parti invertite vedete che è questo che mi fa inculcare a me che mi frega di parlare male di sony ma hanno delle politiche loro comprano gli ip vedono che cosa c'è e vogliono ora adesso comunque stanno lavorando molto sugli sviluppatori giapponesi perché vogliono dare una nuova identità giapponese alla playstation 5 cioè stanno facendo un'operazione molto simile alla playstation 1 dove loro creavano delle esclusive semplicemente prendendo accordi con le case che non erano loro che konami ma è mai stata di sony però li faceva i titoli per sony sostanzialmente diventavano esclusive perché semplicemente lavoravano per te ma questo perché era la piattaforma dominante aveva massacrato il saturn era tutto playstation 1 e tutti lavoravano per playstation 1 non c'era concorrenza realtà quindi lo sviluppatore che faceva faceva il gioco per la console nintendo 64 non era un concorrente non si poteva considerare concorrente era diverso il saturn fu massacrato adesso faccio un po di storia con sogo quindi la playstation 1 era la macchina sulla quale lavoravano tutti ma usciva solo lì cioè rendete conto che era uno scenario diverso questi stanno facendo una cosa simile cioè prendono accordi con gli sviluppatori li fanno cosa ha in mano le crescentine bene a certa gente non gliele vendi prima le avrebbero detto sono mie solo mie nessuno ci metterà le mani sopra adesso non dicono così adesso ci sono due differenze la prima è che c'è la concorrenza e la seconda è che loro tagliano fuori maliziosamente determinate piattaforme cioè una cioè xbox non c'è più si può fare tranquillamente nome con niente perché sempre xbox mi è tagliata fuori che cosa ci vedrà poi sony tutta sta gran minaccia in xbox che non vende una mates anche le consono ne sta bene ma dov'è io veramente devo capire come mai sony così ostinata a voler massacrare xbox anche dopo che gli ha dato quattro giochi moltifiattaforma ecco vedete anche se sono cose che mi mandano non lo so è come dare un piatto di chiamato di stavo per di chiamato non lasciamo perdere mi stavo caviale stavo per dire chiavale caviale un piatto di caviale a un cinghiale cioè che cosa che cosa vuoi aspettarti stai facendo un'azione mazzana e allora questi li danno i giochi moltifiattaforma a quest'arte ti rispondano con un calcio nei denti versione violenta o lingua di menelicche versione più soft la lingua di menelicche che ti rimbalza sul naso no c'è phil spencer che sono fatto male con la lingua di menelicche gli arriva la lingua di menelicche dai basta che siamo bambini capito gli ha fatto tutto il discorso phil spencer tutto serio e sony con gli occhi un po persi nel vuoto prendere la lingua di menelicche prima si inchinano come giapponesi poi prende la lingua di menelicche cioè quindi ma di che si parla stavo guardando lo screen obs ma in realtà per guardare vuoto devo guardare la mia nuova che è la lingua di menelicche così fa dai basta non fare il bambino sto facendo un discorso serio ma che cosa vuoi ma che ti vuoi aspettare ma perché poi li vogliano così massacrare che noia gli daranno a me questa cosa mi sconquassa veramente mi fa cappottare perché che cosa non lo so che grande pericolo vede cioè sony ha questa missione a questo imperativo totale c'è che la roba non deve uscire su xbox cioè fate di tutto ma non fatelo uscire su xbox lato fossero già avvantaggiati di suo perché gli sviluppatori giapponesi hanno molta poca voglia di fare portingare su xbox un po perché hanno paura che non venda nel loro territorio un po perché gli sta sulle balle microsoft un po come a tutti è un po perché la stessa microsoft ha la sua percentuale di colpa perché innanzitutto non doveva chiudere tango studios con i creatori di hi fi rush non doveva chiudere tango solo perché se n'era andato mikami ragazzi ne arriveranno altri elementi brillanti ora andato via mikami chiudi tutto e poi lo sapevi già che era andato via mikami era andato via prima era l'ultimo legame di microsoft con gli sviluppatori giapponesi c'era solo tango hai fatto fuori lei non c'è più legami col giappone potete stupirci se a questi stai sulle balle o non vogliono portingare perché hanno paura per l'installato delle macchine nei paesi asiatici sony ovviamente approfitta sempre sempre la coltellata nella ferita di questa situazione che è già a suo vantaggio guarda me l'immagino come vederli vanno dallo sviluppatore li danno tre briciole in tasca vieni con noi poi vieni con noi significa mi prendo l'ip o stringo un accordo monetario per cui se non esci sulla piattaforma fine non c'è una una percentuale di square enix nelle nelle tasche di sony non possiede niente della casa non possiede square enix non possiede la casa che fa push up come si chiama la casa che produce stellar blade che ma vi rendete conto è quella un'esclusiva ps5 di una casa che non fa parte di sony non è una casa non è una produzione interna si sono comprati gli p quello è un gioco che doveva uscire se non lo sapete ve lo dico io su pc xbox e ps5 e poi è diventato magicamente un'esclusiva ps5 cioè così va bene così le crea anch'io le esclusive ma non è la stessa cosa dai ragazzi se voi volete dire che dei giochi un po di nicchia giapponesi tre giochi di nicchia giapponesi con con licenze blindate con questi sistemi scorrettissimi significa avere delle esclusive per la macchina allora vi chiedo scusa allora si la ps5 alle esclusive ma io la vedo un filino diversa la vedo quando sony aveva gli studi che li tiravano fuori grandi grandi titoli nauti dog non si sa che fine ha fatto sono spariti nel buio siderale ora il silenzio di nauti dog comincia essere imbarazzante perché e cosa fanno secondo me dracman che il produttore e sceneggiatore di last of us si è completamente bevuto il cervello dopo il primo cioè dopo il secondo doveva smettere e chiudere quella saga lì e fare altre cose invece ha continuato con quel secondo capitolo sciagurato si è bevuto totalmente il cervello e non si ripiglia più lui ragazzi o va a produrre serie tv continuerà a fare serie tv di last of us ma lui è partito totalmente perché se non fosse così nauti dog ha bisogno a questo punto vedete faccio anche l'opinionista pro sony nauti dog a questo punto ha bisogno di uscire con una nuova ip perché per last of us 3 bisognerà attorni normale dracman non sarà semplicissimo hanno bisogno di tirare fuori una nuova ip anche per far vedere che comunque sony gli sviluppatori interni ce li ha e lavorano e non devono andare a blindarsi esclusive con queste robe sotto banco che tra l'altro nemmeno i ninja oddio mio ma che cacchio si chiama John Lapsus stavo per di ninja theory team ninja scusate nemmeno i team ninja sono di sony non c'è nessuno sony non è nessuno non compra nessuno tranquilli che sony non è come maerson compra nessuno fa solo staffaracci per per blindarsi i titoli spendendo il meno possibile senz'altro perché quello stellar blade l'erano pagato due 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 palanche senz'altro quindi vabbè chiusa chiusa era la questione però come vi dicevo le console stanno vendendo bene in europa la pennetta magica vi dirà che è l'xbox e basta che non vende ma in realtà sta messe male tutte e tre sony ha subito meno l'impatto appunto perché è la macchina più desiderata è la macchina che la vogliono in casa per moda benissimo chi ha detto sta cosa sono d'accordo perché è sempre la maledetta moda che ti fa portare in casa anche un iphone che per carità sono prodotti eccezionali e per ora le esagerazioni sono sempre sono sempre esagerate le esagerazioni sono sempre esagerate cioè ora devono avere tutti l'iphone perché è il telefono e la playstation è la console permettete anche alla gente di avere delle scelte personali e cercare anche delle alternative perché non è non è che siamo tutti un esercito di new che vanno tutti nella stessa direzione fanno tutti le stesse cose no è bene che ci siano individualità e persone che facciano un po anche quello che gli pare allora staremo a vedere il senso del video qual'era parte questa digressione su sony è che sicuramente questo è un piccolo indizio che rafforza il il rumor che dice che microsoft potrebbe potrebbe diminuire o abbandonare il supporto in europa delle console perché se se è comunque fortificato da questo dato qui che non vendono hanno venduto potrebbe esserci un fondo di verità no cosa che io vi avevo già detto perché io temo che sia vera sta cosa non vorrei questo rumor temo che sia vero e come avete detto nei commenti e come vi ho detto io microsoft deve essere più chiara nella sua comunicazione e ci deve far sapere che cosa vuol fare cosa vuol fare anche di noi sinceramente perché gli abbiamo preso e abbiamo preso le console ce l'abbiamo in casa abbiamo pagate vogliamo un po di risposte inutile che che vai a dire 2025 2026 sarà nuovo hardware se non sa nemmeno se sopravvive quello attuale non puoi parlare di futuro se non c'è un presente quindi cementifica il presente se no è un guaio cioè non bisogna sapere che cosa hanno in mente di fare questi che vogliono fare da grande vogliono investire sul cloud pensano che le console siano ancora ci sia ancora una possibilità per renderle un mezzo lo sapete io come la penso uno di voi mi ha risposto questi questi hanno bisogno di creare utili non li possono creare aumentando il numero di console ma piazzando piazzando il loro software dappertutto questo vorrebbe dire implicare che microsoft diventa uno sviluppatore multiplattaforma e non l'hanno mai detto se vogliamo fa sta cosa qui io vorrei saperlo perché io sono diversi avvisi sono dell'idea per carità sono un mob semplice aumenti l'installato di macchine aumenti gli abbonamenti di game pass sopra visto che sei tutto interessato a quelli dovresti essere il tuo interesse dovrebbe essere quello da aumentare l'installato delle macchine promuovendole però facendo capire alla gente che cosa sono perché anche quello tanti non sanno nemmeno che cosa sono e cosa ci si può fare ci devo pensare io guardate che psicodramma è questo pubblicizzandole ma sul serio ma 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 martellando attenzione a interrompere rapporti anche con gli sviluppatori orientali che non va bene deve esserci tutto ci deve uscire di tutto deve dare l'idea della macchina globale ora se questi tirano un po' e mi imbarca sull'america mi preoccupa molto per questo dico che ci vedo un fondo di verità su questa cosa qui e se l'idea è quella di di diminuire sulle console allora fateci sapere come volete compensare la cosa perché dove la vendi la roba a chi a chi gli ha dato 4 giochi a sony poi che gli vuoi dare faccelo sapere che questi sbomballati hanno fatto quel podcast falsissimo e io ci rimasi così dove hanno annunciato i quattro titoli alla fine io mi aspettavo che dicessero sì ma boxari perché parliamo con voi boxari non è che parliamo con i sonari no è sottinteso che parliamo con i boxari allora la comunicazione deve essere amici compagni boxari abbiamo deciso di dare quattro titoli a sony per compensare ecco che cosa daremo a voi boxari perché perché gli diamo quattro titoli a sony perché abbiamo bisogno di allargare il nostro volume d'affari quindi ci apriamo un po' a molti piattaforma attenzione adesso a quello che daremo a voi per compensarvi non hanno fatto niente tutto questo hanno fatto l'annunciazione e chiuso le trasmissioni e boxari è rimasto così e beh e stighè e a me che mi frega della roba che dà la concorrenza a me cosa dai quali sono i miei benefit io che ci ho guadagnato da sta comunicazione niente perché sti sbomballati hanno fatto sto live rivolgendosi non lo sanno manco loro a chi ma che si aspettavano che ci fossero tutti i sonari che aspettavano con trepidazione il loro podcast dichiarimenti erano i boxari che hanno vissuto una settimana da incubo posto silenzio food vari rumor che si che si accavallavano uno dietro l'altro uno peggio dell'altro erano i boxari voleva risposte non erano suonari sudati lì che aspettavano il live guest di 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 briocia la brunella e pinocchio special guest dovevano rivolgersi ai boxari per questo nel video precedente ho detto ma con chi parla questi a chi si rivolgono non lo sanno sono storditi dovevano rivolgersi ai boxari invece che sono rivolgiti ai sonari vediamo quattro giochi gioite e boxari ah sì perché c'erano anche loro non me ne erano non ce l'avevamo accorti scusate oppa vi siete bevuti il cervello ma sta roba qui è forse non l'ho detta faccio anche la manina rotante non l'ho detta troppo bene sta cosa qui ne approfitta adesso per dirla ma vi siete bevuti cervello o rintronati e noi quindi fateci sapere cosa vogliono fare se ci siamo messi queste macchine in casa per un motivo e non è semplice questo lo farò in un altro video però rispondere è arrivato il momento di farsi un pc win win cioè il pc dove ci occhi la roba sony la roba microsoft ora tra l'altro un'altra cosa che volevo dire che questa è una buona notizia c'è anche il geforce now come alternativa all x cloud per i servizi di game pass anche che quindi è molto interessante perché ci sarà da pagare ovviamente il geforce now però le prestazioni sono molto migliori dell'x cloud quindi è bene avere un'alternativa su quello approvo approvo però il discorso è attenzione a dire facciamoci tutto il pc in un altro video vedremo quanto costerà farsi sto famigerato pc che deve sostituire le series perché se mi sono fatto una series s da 289 euro se mi hanno ladrato probabilmente perché costa meno io devo essere in grado di farmi un pc con 289 euro che sia in grado di rivaleggiare con la serie s attenzione signori in più la serie s ha quella semplicità che il pc non mi darà mai cioè accendo metto quello che mi pare ho finito spengo in salotto sul divano non con gli ex i cosi fai partì l'app la contro app non mi venite a dire che non è vero perché siete dei bugiardi non mi venite a dire che non è vero capito parlo con voi master race pc sti non mi venite a a pisciare in tasca dicendo che sta piovendo cito un grande film l'hairs cake the pusher non mi urinate in tasca dicendo che sta piovendo perché lo so di che si parla ce l'ho anch'io pc non ho ancora finito di imprecare per quella cacchio di app i play che deve deve andare in concomitanza con l'app xbox per far girare la roba elettronic cars nel game pass su pc queste cose non ne parlate mai però state sempre zitti e win win ed è il fatto che qualsiasi gioco sia legato allo store a cui l'ha acquistato che anche la sua interfaccina al suo front end dove ti devi tutte le volte loggare e se ti dimentichi la password povero te povero te questa maledetta abitudine portata da steam e gheb new e morte ora adesso qualsiasi stone dove acquisti origin gog tutti hanno il loro front end ti devi loggare col tuo account c'è 100.000 account per giocare a 10 con 7.000 front end sul console hai solo uno quello xbox nel tuo account accendi spegni ragazzi non si può far finta che non esiste queste cose esistono e in più c'è la differenza di prezzo e in più aggiungo io ti manca anche l'environment esclusivo videoludico che a me piace perché sennò lo devo condividere con tutte le altre cose che fai su un pc che sia lodato sempre perché senza il pc non esisterebbe xbox zone e manco il video di oggi perché lo sto registrando quindi mescolare inquinare mio work place con con il mio tempio di depravazione videoludica non mi va tanto bene mescolarli così in più con tutte queste rotture di bolas e spendendo molto di più quindi io non sto dicendo che è sbagliato quello che voi dite attenzione perché è vero che le console sono diventati dei pc economici e più user friendly però sono meno diversificati rispetto a prima le console i pc d'accanto loro comunque sono migliorati perché prima era molto peggio sono migliorati e offrono esperienza più consolare tutto sommato quindi si sono diventato un'alternativa è davvero che su pc ha il meglio di tutti i mondi e non c'è tutte stesse deprimenti politiche ti giochi la roba sony ti giochi tutto ti giochi la roba microsoft il game pass è vero però guardiamo anche anche i lati negativi non non è una scelta che si può fare un consiglio che si può dare a cuor leggero si rischia di cadere nella presunzione nella spocchia che è un po tipica del pcista non devi essere spocchioso siamo tutti giocatori devi rispettare quelli che comunque amano avere l'environment loro tutto dedicato al lobby la semplicità user friendly e dove stare a smadonnare su niente sostanzialmente perché l'hardware è chiuso è già è già ottimizzato calibrato non c'è da toccare nulla se non fa partire un gioco e chiuderlo quindi ragazzi non minimizzate queste cose hanno un'importanza per qualcuno quindi non è un non è un suggerimento che si può dare così acqua con leggero se si dà deve essere ponderato intelligente non per dire ci siamo sempre stati nuovi voi siete sempre stati delle sottocategorie cioè siate un po consapevole di questo status finalmente unitevi perché questa è la classica canzone del pcista io me ne frego carissimi me ne frego perché so di cosa si parla e voglio il meglio per me e lo so che anche i fratelli la vedono così comunque un altro video vedremo quanto ci vuole di soldi per farsi un pc che in grado di rivaleggiare con le series e vedremo la differenza di prezzo perché anche quello so soldi ragionieri so soldi ok va bene detto questo è arrivato il momento di salutarci fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre commentate a manetta mettete un like al video iscrivetevi al canale se non l'avete fatto per poter essere sempre informati sui nuovi video entusiasmanti di xbox zone il vostro mob vi saluta per oggi e ciao